Lo vuoi campanellino? Buono cillino nonno, buono, buono. Senti come tiepido il sole e che profumo di riovera. Ho fatto bene stamattina a mettere l'orecchio sulla parete in corrispondenza del bagno di quel ficcanaso che abita attaccato a noi. Mamma fai più scema mia, oramai conosco le sue abitudini. Sono uscito quattro quattro e mi sono infilato nell'ascensore con tutta la carrozzina ed eccomi al sicuro su questa bella panchina per far prendere una boccata d'aria buona, stanevi a Dio. Hai capito ragioniere stamattina me l'ha fatta, evidentemente la sua operazione bagno l'ha anticipata, così quando la portiera mi ha detto che l'ha visto uscì come un ladro con la carrozzina sotto al braccio. Io ho capito tutto, altro che bambola che piagna e fa pipì, sì, che il pianto di quella creatura che l'altra notte non mi ha fatto dormire, era vero, altro che... Sì, ma sono sicuro di trovarlo in un vialetto di questo superstito e giardinetto di Roma, culla perché che ti dicevo? Uè ragioniere carissimo! Caro dottore! Come mai da queste parti siete venuto a curarvi l'asma? Sì, è la verità, ho sentito dire che l'aria dei pino fa bene ai bronchi. E infatti io sono venuto per lo stesso motivo. Sì, eh, non è che lo siete impiegato in qualche ufficio di investigazione privata. Ma che dite, ragione, sono venuto a respirare l'aria dei piedi perché, come sapete, io pure tengo un tantinello di enfisema. Sì, chiamatelo tantinello voi, certe volte mi è sembrato un mantice. Eh beh, l'età, mi posso sedere, voi permettete? Per carità, accomodatevi pure, la panchina è pubblica. Eh, grazie, ma vedo che mi siete portati appresso la bambola. La bambola? Sì, la bambola, quella che piangeva l'altra notte. Ma guarda, ma questa non è mia, questa è una balia che mi ha chiesto il piacere di dargli un'occhiata un minuto. Ragione, sarà di poco un'oretta e mezza che vi guardavo dalla mia panchina. Hai capito? Sì, perché stavo leggendo il giornale, sapete, da lontano, guardavo, ma non ci vedo tanto bene. Dico, ma quello sarà il dottore, dico, ma andando a vedere se è lui. Infatti adesso, andando verso casa, passavo qui davanti, dico, è lui, infatti siete voi. Hai capito, è un'ora e mezza che mi state filando, insomma. Mi è filando? Non è tutto il giornale, come avevo detto prima, e ora me ne andavo verso casa. Bene, bene, allora arrivederci, tanti auguri, eh. Ma che, mi merate solo perché voi non rientrate? Ma dove devo venire? A stanno mi dico, faccia, la lascio qua. E che volete aspettare? Se questa non viene, che... Ebbene, devo aspettare, no. Ma va bene, ma dico, allora vogliamo consegnarla al vigile. Ma quale vigile? A certo, ma vogliamo vedere se sta dormendo o ci sta ascoltando. Ma che sono fatti vostro, lasciatelo a sta povera creatura, io so che non capisco. Ma guardare che bellezza di creatura. Che sarà, maio o femmina? Levate in mano. No, volevo vedere. Levate questa mano che è piena di microbi. Prego, ragione, io vengo dal bagno. Ma guabbè, voi venite da una panchina fetente dove forse la notte ci ha dormito un senzatetto. Ma vabbè, adesso a parte il tetto, la panchina e cose. Che vogliamo fare con questa creatura? Ma che vogliamo fare? No, dico, lo vogliamo chiamare questo vigile? Ma quanto male? Ma quanto male? Che cosa? Voi fermate la circolazione di un quartiere di Roma per un pupo? Ah, è un pupo? Non lo so. Può essere pure una femmina. Allora, guardiamo che ci vuole dargli un'occhiata. Dico, a vederla così pare che le femmine fanno i capelli lunghi, eh. Vabbè, lunghi, corti, ma oggi non si fa più caso alla lunghezza dei capelli. Beh, vabbè, allora lasciamo stare, adesso sta disclusione dei capelli lunghi e corti. Ma a voi vanno consegnato sta cosa, per piacere ci vi date un'occhiata. Da questo non si vede, che fa? Ma la portiamo in questura, allora. In questura, a questura? Ma quanto male? Ma no. Beh, allora famo una cosa, portamocela a casa. E poi magari famo un'incerzione sul giornale, il bambino sbarrito, giardino, ci può ritirare presto dal Deitale, via tale, numero tale. E portare tessere di riconoscimento, ma che è un panco postale. Beh, sapete, queste sono frasi che mescono così, da adesso sono stato per 40 anni all'ufficio poste telegrafi, insomma. Allora, vogliamo andare? Che vogliamo fare? Ma che andiamo, che andiamo? Se volete andare, andate voi, io aspetto la balia. E se sta balia non viene più? Ma come non viene? Sapete com'è? Tra un bacio e l'altro il tempo passa, e uno ne è perso una corcia. Ma scusatemi tanto, non è che io voglio fare l'investigatore privato come avete voluto accennare voi malignamente. Dico, ma voi siete sicuro che era una balia? Eh, e questo ho cercato. No, perché potrebbe essere pure una, diciamo, ragazza madre, che si vergognava di portare avanti il bambino, anziché lasciarlo sui gradini di una chiesa, se me lo lascio qui al giardinecco. O la carrozzina? Eh, certo. Vestita da balia? E per non far capire. Ah, ma voi volete fare proprio lo Sherlock Holmes, sopra? No, anche perché oggi le balie, non so se voi siete uno che fa caso, non esistono mica più. Vedi, questo è vero, questo è verissimo. Ora che ci penso, io credo che sia proprio tutto colpo dei caroselli, se non esistono più le balie. Adesso non vi seguo io. Voi avete mai visto in carosello una donna che allatta un bambino? Beh, no, adesso non mi ricordo. Biscuitivi, omogeneizzati, tettarelle antisinghiozzo, latte in polvere di varie marche, ma il latte è vero, quello che scendeva da... Come spiegarmi? Avete presente il recipiente? Ma non so, volete dire i recipienti? Ecco, i recipienti. Vettete lì per pezzo. Dico, quel latte lì che scendeva da quei recipienti, che fine ha fatto? Eh, misteri, caro dottore. Secondo me mancano proprio i... quell'affare lì, insomma, i recipienti, chiamiamoli. Eh, è vero, è vero. Voglio dire che non c'è più di moda. È come per i boccioni che sono quasi scomparsi, perché mo' sono arrivate le tanniche di plastica. È proprio vero, tutto cambia. Sì, però voi vedete la confusione che si crea con i caroselli. Guardate, io sono certo che andrà a finire, che al pincio vedremo un soldato che invece di stare seduto vicino a una balia, sta seduto vicino a una scatoletta di omogeneizzati. Anzi, a una scatoletta di donogenizzati. Oh, questo è buono. Eh, sono finiti i tempi nostri, caro ragioniere. Oggi c'è un tantinello di disordine. Voi guardate quella coppia là, magari saranno fidanzati, io non voglio disculare. Eh, immagino che siano due fidanzati. Tutte e due portano i calzoni, tutte e due hanno i capelli che gli arrivano fino alla schiena. Eppure visti davanti sono tutti spianati, per via che gli mancano i recipienti. Eravamo prima, sono uguali. Però uno è un uomo e uno è una donna. E qual è la donna? Eh, per capire questa cosa bisognerà aspettare che uno dei due resti incinta. Eh, 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 eh. Ah. Eccetà, eh. Eh, una luna amarecata. Mi sta volendo tutto la casa. Senti come piangere. Eh, zitto, zitto, non piangere. Bello di... Bello di di che? E' finita la frase. No, 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 no. No, ma voi stavate a dir bello di di... E' altre cose. Eh, quali cose? Sì, su quali cose? Le cose che occorrono per i neonati, no? Eh, eh, non è mica tanto facile sapere. Che volete che possa sapere un ex capo ufficio delle PPTT di neonati? Vi capisco, vi capisco. Che ne può sapere di allevamento umano, un ex funzionario delle finanze? Ma poi quei pensieri che avevamo noi, e la moglie che non capisce niente, magari che vi ha domandato se per ragazzino è meglio il biscotto plastico o vitamina alla... Che ci frega a noi queste cose, insomma? E' quello che diceva mia moglie ieri sera quando mi chiedeva se è meglio il pannolino spugna o quello sofficit. Il pannolino non è essenziale. Eh, no, 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 no. Come non è essenziale? Eh, scusate, cioè quello che assorbe fino a mezzo litro, è quello che oltre ad assorbire mantiene pure le gambette del pubo in posizione naturale, eh? Beh, ma allora c'è anche quello che si lega sulla gambina e non arrossa la pelle. Ma che tiro tu? Secondo me poi è il migliore. Ma per l'amor di Dio, il migliore è il trinesse. Ah, no, no, no. Quello della settimana è un'offerta speciale, un paccone di trinesse, talco profumato e sapore neutro, 1700. Sì, lo so, ma dovendo scegliere è molto meglio l'offerta speciale, cocco. Pannolini, biscotti plurivitaminizzati, tre vasetti di pappina alla frutta, tutto per 1800 lire, capite? E dove, dove? Solo in farmacia. Eh, beh, ma allora che ci troviamo? Scusate, passando con la carrozzina, tanto la porto io, magari. No, no, la carrozzina la porto io. Perché la dovete portare a venire, a ritorno a casa, la porto io. Ecco, ma ci ha mandato il ritorno, no? Eh, ma perché la volete soffrire? La carrozzina la porto io, ma sempre con dignità da funzionario. Eh, perché io che la portavo? Beh, vabbè, comunque, la dignità prima di tutto, questo sono d'accordo con voi, perché queste cose io penso di farle in via del tutto eccezionale. E mi credo, sennò diventa un'abitudine. Non c'è mai, le mogli devono fare le mogli. E i mariti, i mariti, anche se pensionati. Eh, e dite un po', il latte stasera come glielo date voi? Ah, con lo zucchero. No, ma dico, freddo o caldo? Caldo, tiepido, insomma. Senza niente dentro, senza niente dentro. Lo zucchero dentro. Eh, vabbè, lo zucchero, vabbè, quello è da colto, è come se fosse il condimento per una parte. Ma non ho capito, secondo voi, che cosa ci dovrei mettere? No, qualche cannolicchio, non avete provato mai i lati con i cannolicchi? Ecco, la c'erano minestrona che stai creando. Una minestrina al latte, una minestrina al latte. Ecco, però io con i cannolicchi rindo l'altro bambino. Ah, ma voi scusate, ma la farina, la farina. No, 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 ma adesso... Ma la farina, il cannolicchio è fatto di farina. E che significa? E allora la farina latte. La farina latte è fatta a cannolicchi. Eh, la farina latte è fatta a cannolicchi. No, vedete, non siamo d'accordo. Mi dispiace, caro cavallero, mi dispiace. Ma provatela la farina latte cannolicchiata. La farina latte è cannolicchiata. La farina latte è fatta a cannolicchiare.